Al centro di questo romanzo c'è una strage. Al colloquio orale dell'esame di maturità il candidato, lo studente italiano Caccia, estrae una pistola e uccide tutti i commissari, eccezione fatta per il suo insegnante di storia e filosofia, il professor Andrea Marescalchi. Leggerò due brani da questo romanzo. Il primo Nel pomeriggio, durante l'ultimo consiglio di classe prima dell'esame di Stato, sebbene l'italiano sia stato formalmente ammesso alla prova finale, ho saputo che i miei colleghi si sono accordati sotto banco per bocciarlo di nuovo. A farmelo capire, per allusioni e aforismi, è stato Roberto Tanzi, collega di scienze. Seccato dalla mia esortazione a tenere conto delle problematiche psicologiche connesse allo stress da esame e dalla mia lunga perorazione a favore dei soggetti con più accentuate fragilità psichiche ma con grandi doti di spirito e di intelligenza e in cima alla lista dei quali troneggiava l'italiano, Tanzi, al termine del consiglio, mi ha preso in disparte e velenosamente mi ha detto. Non te la prendere, Marescalchi. Non è il caso di farsi il sangue amaro. Cosa vuoi quando si è giovane e si guarda alla vita come una prova di abilità nella quale sarebbero i talenti, gli estri, le virtù a decidere il risultato. Ma chi ha esperienza sa che in realtà si tratta di una gara di resistenza nella quale prevale chi ha le doti di solidità fisica e di ottusità mentale necessarie a tenere duro e ad arrivare in fondo. Noi che siamo chiamati a giudicare dei giovani, a selezionarli per il futuro della società, non possiamo ignorare questa verità. Noi dovremmo promuovere chi sia dotato di insensibilità, di tenace indifferenza, di impermeabile mediocrità, di beata ignoranza, di mancanza di acume. Insomma dovremmo apprezzare tutte quelle incapacità che rendono un uomo adatto allo scopo della sopravvivenza in questo mondo. E per l'esame di maturità faremmo bene a servirci di uno di quei testi psicoattitudinali che si usano per selezionare i membri di una spedizione nel deserto, di una missione antartica o di una squadra di intervento sul luogo di un disastro ambientale. Secondo brano. Dunque è andata così, si disse Andrea. Le mie parole sui genocidi del ventesimo secolo sono risuonate nei timpani convulsivi di Vitaliano con un tono di angoscia profetica e la profezia si è poi autoavverata. Il mio insegnamento della storia dell'umanità, di questa lugubre ripetitiva sciarada di immani distruzioni, futile al punto da non riuscire nemmeno a generare un'estinzione finale, al punto da fallire persino l'obiettivo minimo dell'autoconsunzione, ha funzionato da annuncio nefasto che si è adempiuto per tramite di Vitaliano nella strage di fine anno scolastico. Stando al mio insegnamento, il ventesimo secolo si sarebbe chiuso sulla strage come sulla sua ultima parola. Per il mio giovane allievo, il ventunesimo secolo si annunciava quindi all'insegna del massacro. Sterminando i suoi professori in quella palestra, l'allievo non ha fatto altro che tradurre in pratica la lezione del maestro. In un certo senso è stato davvero il mio allievo più perspicace. Il professor Marescalchi trovò con queste riflessioni un po' deliranti il modo di disprezzarsi un'ultima volta. Aveva sprecato il poco tempo a sua disposizione cercando nel posto sbagliato. Influenzato dalle teorie pedagogiche all'ultima moda, per tutta l'estate aveva cercato il suo presunto influsso malefico subitaliano sulla natura della loro relazione educativa, nelle modalità della loro interazione comunicativa. L'aveva cercato, cioè ai margini del suo insegnamento, negli interstizi, nei voti di sapere, nel quarto d'ora di recreazione tra la lezione di storia e quella di filosofia. Invece l'induzione alla violenza nichilista era oggettivamente insita nello studio della storia. Il maleficio era il risultato di un dato contenutistico, disciplinare, non lo svilamento occasionale prodotto da una digressione extracurricolare. In quel momento Andrea credete di aver trovato la verità, eppure continuava a rimanere all'oscuro. Percepiva l'ecidio dei propri insegnanti da parte di un liceale come la conseguenza del rischio cui la nostra cultura e la nostra società si espongono, insistendo a voler diffondere tra i giovani la conoscenza su loro stessi. Eppure quella percezione rimaneva confusa, il nesso causale diretto sfuggiva al professor Marescalchi, e questa volta non più per una debolezza accidentale del suo intelletto, ma per la natura stessa di quella verità. Quella verità era tenebra, non luce, apriva a un'apocalisse priva di qualsiasi rivelazione.